Easy go Aben, un rifugio. Per cosa? Parassiti? Umani, mia signora. Adorabili. Costruiscono una casa di paglia durante l'apocalisse. Sì. Dove andiamo adesso, Sentinella? Io... io non conosco altro che gli ordini del Consiglio, mia signora. La ricerca dei sette inizia qui. Invidia. Mio! L'Uma, Aben, tutto quanto è mio! No! Scappa, cavaliere, o sarai lì anche tu! Sono in missione. Ah! Proteggi gli umani? Credono di essere i prediletti della creazione, ma non sono altro che scimmie che strisciano nel pango. Sei una tipa rancorosa. Prenderò tutto ciò che amo e quando non rimarrà a loro più nulla saranno i miei giocattoli finché non li avrò rotti! Non puoi fermarmi! Oh, non è una mia scelta. L'umanità è ampiamente sopravvalutata. Non sono qui per loro. Sono qui per te. No! No! Affacciati è ancora più piacevoli di quanto pensassi. Oh, non sono qui per te. Sì! Sì! Sempre sottopanitata e rituperata! Solo perché merito ciò che è mio! E pagherai per questo! Il mio! Carino! Vieni a prenderlo! È mio! Mia signora, non vorrei essere pedante, ma non dovevi catturarla, invidia. L'ho fatto! Guarda! Questo talismano... È un ricettacolo! Invidia lo usava per conservare l'energia degli altri sette. Sarà una prigione idonea per gli altri quando la loro forma fisica sarà distrutta. Se mi è concesso, sia per te una specie di ronzio provenire dal talismano. È quel bagliore... ... ... ... ... ...